La gente che partì alla 11.30 e ci dice come lo so dove fanno un po' le carine. Perché domenica è la cosa sua, sì, perché io non so, tenivo la carina, sì. Ora a tutti se lo fanno, va. Sì, a questo sì, a qui, 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 a qui. Sì, a qui.